Microsoft Lumia 640XL, la versione da 5,5 pollici con fotocamera posteriore da 13 megapixel, flash LED e ottica Zeiss ecco qui c'è anche l'alto provante posteriore, sulla parte superiore il programma del jack audio tasto stand-by e bilanciere alto sulla parte destra del dispositivo nulla sul lato sinistro, sul fondo troviamo il classico connettore per micro USB nuova versione di Windows Phone installato, è la 8.1 GDR2 infatti se andiamo a guardare il menu impostazioni vediamo che sono divisi per argomenti lo schermo è risoluzione HD, 5,5 pollici l'abbiamo detto, fotocamera anche anteriore è un bel dispositivo, molto reattivo, purtroppo in questo momento non siamo collegati alla rete wifi quindi non posso mostrarvi come si comporta il browser è un dispositivo che arriverà sul mercato ad aprile, prezzo indicativo 169 euro la versione 3G 2,19 la versione LTE, dovrebbe essere prevista anche un dual sim anche se non ci hanno confermato sarà disponibile in Italia i prezzi sono tutti senza IVA, da aggiungere tasse oppure da sottrarre eventualmente sussidi degli operatori è un bel dispositivo con un'interfaccia reattiva, Windows Phone si comporta sempre molto bene speriamo di metterlo alla prova al più presto con una video recensione completa su telefonino.net